538 espositori, 100 aziende e una presenza sempre più internazionale di buyer in arrivo anche dai mercati emergenti. Questa è solo una rapida istantanea di Taste, l'evento firmato da Pit Immagine che si svolgerà alla Fortezza d'Abbasso dal 4 al 6 febbraio prossimo e dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane, frutto della tradizione, delle peculiarità territoriali e di straordinarie storie familiari e imprenditoriali. Dal salato al dolce, dai soft drink agli spritz, passando per il design dedicato alla tavola, Taste è l'appuntamento di riferimento per scoprire le migliori aziende, i prodotti iconici e le tendenze del food and beverage, in un percorso fatto di proposte sempre più creative e consapevoli. Giunto alla sedicesima edizione, Taste vuole tenere insieme la musica jazz e la cucina con un focus particolare quest'anno sulla pasta e sugli amari. Tutta la città poi si animerà con il calendario fuori di Taste, cene a tema, presentazioni ed eventi per degustare i prodotti selezionati nei locali più belli di Firenze. La cosa più interessante è che effettivamente a Firenze arrivano compratori un po' da tutto il mondo, nel senso che abbiamo avuto nell'ultima edizione più di 5.000 compratori con una bella partecipazione dall'estero e quest'anno ci siamo accorti proprio con tutti i contatti avuti che questa presenza internazionale sta aumentando, aumenterà da tutti i paesi, sia da quelli più maturi, dai paesi come possono essere l'America, il Giappone, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti ma anche da paesi emergenti, quindi dal Brasile, quindi devo dire che questa si presenta come un'edizione veramente speciale.